Allora, landing Landing a electric, ma mi fa male questa zona, lo giuro Mi mette un'ansia Io mi immagino electric come Un buco, dove ti vedono da tutte le parti Sei proprio dentro il colosseo, sai Mi mette un'ansia sto posto Allora, abbiamo un po' di crafting Great Jod Io non ho visto landing, però bisogna stare attenti a andare lontani Ora non lo è neanche troppo Allora ragazzi, ricordiamoci le varie fasi Abbiamo rotazione Quindi deve iniziare a ruotare il tutto Abbiamo rotazione Fight, quindi fare i punti Quei tre punti per l'endgame E poi l'endgame Cioè la fine della partita Se dovessero fightare questi e prendere i knock Per esempio Potrebbero già essere pronti a giocarsela safe Per finire la partita Vediamo, vanno aggressivi Hanno due blu e una viola Giusto Ah, ora l'octane Per esempio qua C'è un tizio fuori posizione Senza audio Provo senza audio Io pusherei quello dentro la casa Perché è fuori posizione Mentre l'octane si pull Bisogna andare aggro su quello in casa Ok, è stato noccato Ora, in questo caso Hai il knock Cosa fai? Recuperi Hai un vantaggio Devi recuperare Devi recuperare Nel senso Ti fulli e reingaggi in 3v2 Quindi non bisogna facciarsi Tutti bisogna fullarsi Sì, è probabile che gli altri pushino In questo caso Perché non si fa vedere Forse No, vanno tutti insieme Buono, buono il tempismo Ottima la scelta di tempo Ottimo che vi siete fermati Avete regruppato Considera sempre l'idea dello swap Tu ti sei tirato la battery Perché hai tempo Ricordati sempre che c'è anche l'idea dello swap Buono il push Manca l'ultimo Ma ricarichi un po' troppo spesso Ho sbaglio Vediamo Scusami, eh Voglio vedere se Ti viene Hai il tic del ricarico sempre Invece ti poteva essere utile Non ricaricare Per finire subito L'altro tizio Comunque Ora avete 3 punti Ok Avete un team dietro Perfetto Direi Bella storia Ora qua La ulti tua Potrebbe essere buona Usa la ulti Pad e fade Per No Joe si sta tankando Dei danni importanti Recuperare Allora Come recuperare Un tempo Sugli avversari A parte che Eravate messi bene Allora Scusate Rallentiamo un attimo E vediamo la situazione Allora La situazione è questa Avete ucciso il blowdown No Muore il blowdown Avete un team dietro Due di voi sono senza armatura Come recuperi Il fatto che vi stiano pushando Con i coltelli Tra i denti Con granate Ultimate Pad Tutte le cose che danno Velocità Rallentano E danno Zonano Tre cose Velocità vostra Rallentamento avversario E zonare Zonare O far utilizzare L'abilità Questa è la prima cosa A cui devi guardare Senza pensarci Quindi appena tu vedi Che stanno sparando A great Jod Mi sembra che Si è scritto Jod Non capisco Jo Tu qua Qua Devi Devi già pensare Hai fatto bene a coprire È giusto che tu ti affacci Che sei full Però anche qua Gratuitamente Puoi tirare delle nade Se le hai E ce l'hai C'hai una fire Hai pensato qua Di non tirarti il phoenix E che è una buona idea Secondo me Anche perché puoi Riaffacciarti prima E tirare nade e altro Hanno un team dietro Forse Ho sentito bene Forse hanno un team dietro Hanno un team dietro Attenzione Fade No Zero rischi TP out TP out Va benissimo L'ho visto Kenny L'ho visto devastante Quella Quella rotazione E Questo è free damage Non ti stanno guardando Puoi affacciarti Sugli avversari Questo è tutto Free damage E fai benissimo Ad affacciarti E approfittarne Appena arrivano gli altri Puoi scegliere Se ingaggiare o no La tua squadra Ha tutti Il tuo team Ha già 3 kill Poi anche Potete anche decidere Di andare Nel prossimo anello Il rischio qua È che Un punto Arrivino tante squadre A rompere Però c'è anche da dire Che ci sono 11 team Qua siete 2v2 È safe Puoi lasciargli l'armor E swapparla Anche Potevi farlo Potevi droppare La tua viola Prenderti da blu E ressarlo Per esempio Per dargli un tempo in meno Se fosse stato pressato Qua devi coprire Buono Swappa Un phoenix Con la boom Ok Giusto Leap shield Ti serve Ti serve un altro ammo heavy Non male Bella sta skin Dello spitty Qua Non c'è tutta questa fretta Non c'è tutta questa fretta Onestamente Di andare Di andare a pusharli A questo punto Io personalmente Non andrei Cioè Siete messi bene Tu sei messo bene Ti hai messo bene Questa zona Fa casino da un'ora Questo è Questo è Questa è l'idea di andarsi Ma me ne sarei andato molto Molto prima Cioè anche questo Più che ancora Attraversare Ancora Sparare Cioè Qua è in ritardo Almeno di un paio di minuti Di essersene andati È rimasto un gibbo flash E ho provato a prenderlo Eh ma È da quello no Poi che deriva Cioè tu devi Tu devi sempre pensare Alla durata del fight Dal primo fight Pensa quanto è durato Dal primo fight Stare qua Stare qua È molto rischioso Ora questa è la classica A parte che è una partita velocissima Cioè non vorrei che ci fosse un cheater Ed è molto probabile È molto probabile Che in questa lobby ci sia un cheater Ne sarei Ne sarei quasi convinto Si sta chiudendo 15 secondi Mancano 6 squadre Mmm Mi sa tanto che Nel feed Non l'abbiamo visto Ma qualcuno ha fatto Piazza pulita qua Comunque Già Cioè già 6 squadre In alto Vuol dire Di base che se Vi piazzate Cioè è una buona partita Se vi piazzate Dietro Dentro un edificio FK Fate punti Ecco Allora Guarda La distanza Tra te e i tuoi compagni Questo non va bene Ok Questo non va bene Tu devi essere Con i tuoi compagni O andate tutti da un lato O andate tutti dall'altro Questa distanza è esagerata Anche per un late game Con solo 5 5 squadre Poi Mettere pressione A un team Che ha una torre Io tendenzialmente evito A prescindere Cioè Hanno la torre Sono top Non gli dai Cioè Li puoi scartare Tra l'altro Apro un'altra parentesi È inutile Perché? Perché la rotazione Se ho visto bene Eccoci qua La rotation Chiude proprio dove tu hai fightato O chiude qua O chiude in questo open Oppure chiude in quest'altro open Quasi Quasi sicuramente La zona finale Sarà uno Dei O il corridoio O una delle ingressi Che ci sono in questa zona Difficilmente Chiude da altre parti Sì Quindi Qua potresti pure Ritornare Cioè L'idea qua sarebbe Holdare il top Dove sono i tuoi compagni Dove è Joe Joe Dove è Joe Adesso Fermi Senza neanche affacciarti Perché sprecare cure Per non mettere danno Se gli altri hanno Hanno il tetto Di Grow Towers Non serve Stare qua Fermi Basta Volevo evitare al terzo team Di venire in quella direzione Ma non serviva Secondo me non serviva Tanto meglio trovarselo Che essere Che essere messi così Oppure Ancora meglio Giocare direttamente ai garden Perché come ti ho detto Sapendo già Che chiude dentro Depot O electric Come cavolo si chiama Sapendo già Che chiude lì Tu puoi In anticipo Sapere che Un pezzo di garden Rimane in safe E quindi puoi giocare Sulle case Esattamente dove sono i tuoi compagni Adesso Stare così Così divisi È sbagliato E in più Cioè Quindi di base Ti do il consiglio Di non essere così Separato dai tuoi compagni Ci sta a prendere spazio Ci sta Quello era troppo E poi l'altra cosa Secondo me Se un team Ha la cima Di grow towers Per esempio E tu hai uno spitfire Se è lontanissimo Non sparare Cioè secondo me Sono colpi sprecati Capisco avessi Un 30-30 Un G7 O un cecchino O una wingman Ma Sparare colpi Di carabina Come quando faccio Come quando ci sono io Con la carabina E gente lontana Io non sparo mai Questa è una distanza Abbordabile Ma io non sparerei mai A un team così lontano Il punto che nel feed Non è che se non arrivano Vuol dire che la lobby è scarsa Se hai notato C'è stato un fight Fuori zona Molto grande In cui è morta Un sacco di gente Ed è per quello che dico Che secondo me C'è un cheater Non puoi sapere Se la lobby è scarsa Secondo me Ripeto Questa lobby Si è autodisintegrata In un determinato minuto Che poi vi faccio vedere Fuori 6 Quindi mentre il nostro eroe Ci sei detto Stava sparecchiando I nemici A electric C'era un altro Maxi fight Dall'altra parte Della mappa Dove secondo me C'era qualcuno Di non molto pulito Che ha sparecchiato tutti E poi probabilmente C'è anche morto Allora Unica cosa Non so se tu hai aspettato Qua L'unica curiosità mia È Hai fatto bene a sparare Non so Cioè Ok C'erano già i tuoi compagni Ok Bello il tp anche Bello il tp Della Della raid Giusto L'avevo anche notato Questa Il fatto che tu vai a destra Per poterci puoi salire Dall'altro side È una bomba Bravo Qua è un team dietro Tieni i pari dietro La cassa Bravo Dietro la cassa Il tp non è bello Però mannaggia Poteva migliorarlo La raid Gli poteva essere utile Allora Qua Avete un knock Cosa fai Voglio andare a tempo Tempo di gioco Vuoi farvi vedere Chiami il team dietro Bravo Corri Chiami l'armor swap Allora Sulla raid Sarebbe meglio chiamarle lo swap Perché potrebbe pushare un team E tu non ne sei sicuro E puoi usare una q Per guardare il team dietro Invece che pushare gli ultimi rimasti Ah ok Qua è un altro swap Potete giocare qua intorno Tira una q Guarda il team dietro Guarda il team dietro Che tu Tu lo sai Tu hai la possibilità di Alzarti e vedere Comunque si stanno sparando Quindi niente Però usala in questi casi Sai che c'è un team dietro Ti stanno pushando Chiama l'armor swap Ai tuoi compagni Ok E il tp era bello Ma l'ho visto in minimappa Nikots L'ho visto in minimappa Poi lui si è girato E ha fatto vedere Che era in Che era in cielo Ha fatto bene a usare Ha fatto bene a usare il tp E andare lì col tp Ma poi si è girata La horizon E si è visto carincia Non c'ho gli occhi montati dietro Dovevo ancora vederlo Il video Sulla minimappa Era bello Ma la minimappa Non ti dà la verticalità Mancano tre squadre Io darei per scontato Che una è qua Quindi lì dove state guardando Voi una L'altra nella quetta E poi c'è un team alle scale Uno Due Tre Quattro Ok Tutto esterno Nessuno ha preso Questa zona Dove probabilmente chiuderà E infatti chiude lì Ok Ora Questo è l'endgame Questa è la fase finale Della partita Questa è quella in cui Secondo me Si tira fuori Se c'è poca gente Non sono gli LGS Si tira fuori L'aspetto più carino Di un player Le schillate Di un player Ok Quindi Questa è una parte Molto interessante In un minuto e 27 Ci sono diverse cose No Voglio giocare un po' a tempo Facciamo che anch'io Ho il tempo che aveva Scissè detto O push il team lì dietro Io personalmente Proverai a prendere spazio E stressare questi Il rischio che da sinistra Vi pushino Quindi bisognerebbe Tenere una persona Tipo l'octane Che tiene il lato sinistro Come sta facendo E poi due Che cercano Spazio L'idea sarebbe Muoversi con la safe Ok Il piano A È muoversi con la safe E tenere il lato Dell'acquetta Il piano B È pushare come dei matti Questi tizi E andarci dritti 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 Queste sono le mie due ipotesi Elaborate nel tempo Che avevi te Quindi O push questi qua Come dei matti Sti tizi Su cui Ti stai avvicinando Che è un piano Un pochino più rischioso Ma è worth Per vincere la partita Ok Oppure Rischi Cioè Ma dopo sei un po' safe Oppure Piano B Ti fai Quello che potrebbe essere Un 3v3 pulito Andare dietro L'acqua Cioè lì dove c'è l'acquetta E fare un altro 3v3 Questo è il piano B Ok Secondo me Bravo Se devi farlo Lo fai bene Giusto Oh ma ci sono due squadre La Q Peccato Sono due squadre La Raid potrebbe Potrebbe tornare indietro con te Alla fine non c'era un team alle scalette C'era un team dietro di loro Pensa un po' Allora a questo punto hai Un team Ora Ora L'ultimo team che Non potevamo sapere dove fosse Non era alle scalette Ma era dietro di loro E hanno fightato tra l'altro Nello stesso momento Peccato Aveste aspettato un secondo in più Potevate fare ancora più danni A questo punto Cosa ti rimane? Questi Questi si allargeranno a sinistra Questi che ti sparano A destra Se non c'è l'altro team Puoi prendere la posizione Detro al muretto Quindi come sta facendo la Raid È giusto Giocare lì dove la Raid È buono Non avete fatto errori Non avete giocato male Fin qua non mi sembra Ci siano stati errori Per la giocata Come l'avete interpretata Qua bisogna mettere Pressione subito Magari Magari Ora pronto Devi andare a sinistra No no Devi andare Esatto dove c'è il muretto E coprirti Sei safe Pensa un po' No Non stavo vedendo Che lampeggiava Questa è da tankare Questa è da tankare Tirati prima No 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 Qua ti tiri il Phoenix E ti tanki la ulti Tanto Tanto lui non uscirà mai Il GB Non usciranno mai Per venirti a prendere Perché sono in crossfire Invece qua Hai fatto tutto l'opposto Al posto di tankarti Per non tankarti la ulti Ora ti sparerà tutta la lobby A meno che tu non vada A finire dentro un robo Sei un po' insistente Con sta cosa Ma gli alberi Hanno fatto il loro lavoro Sono stati aggiunti Un paio di alberi Qua Non c'erano prima Hanno aggiunto Degli alberi In sta zona E allora A questo punto Il Phoenix Poteva evitarlo O forse Ne avevi siringhe Non lo so Allora Adesso Ti è andata bene Io non mi ricordavo Ci fossero Non mi ricordavo Ci fossero degli alberi L'ho dato per spacciato Forse non aveva più cure vita Allora qua c'è un knock Sai scisce di che team è Questo tizio Hai tenuto conto del kill feed Sai di che team è questo È del team che arrivava dall'altra parte Quindi quelli a cui state sparando Stanno vincendo È giusto sparare a queste persone Eh però tu sei un fagiano E tu spari agli altri Questo shish Knockato È esattamente Di quell'altra squadra La tua raid è andata In un'altra parte La tua raid è andata Sul team in trio E si è fatta segare Tra l'altro Avete una posizione Ottima Avete una posizione Ottima Avete Avete info Dovevano fightare Prima gli altri Bastava rimanere Esattamente dove sei te E mettere pressione Come fai a capire Di chi è il morto Tieni nomi a mente Dal kill feed Qua sopra Vedi Adesso qua c'è un trade Questo è un trade Quello sopra È un trade Quindi tu in questo momento Stai facendo Un 1v1 Molto probabilmente È quasi È probabilissimo Che se tu vinci Questo fight Puoi Puoi swappare No sono venuti in due Sono venuti in due Peccato Quindi è andato a morire Il terzo di sta squadra Fammi vedere Vediamo se lo segui No sei uscito Forse Peccato Grazie a tutti Grazie a tutti.